benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui per aprire la degust box del mese di maggio è super super pesante quindi direi di avvicinarla e di aprirla sono troppo curiosa ovviamente è abbastanza pesante quasi pure mezza aperta pronti quanto tempo mamma mia andiamo subito al sodo allora maionese questa qui è la deve di maionese con il meno 60 per cento di grassi questo secondo me è veramente buona 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 poi questo marchio è super sì dai questi sono per vincere vai vado è come sbagliare la cosa bagel americano dorato no dorato morato american bagel questo pure sia da farlo salato ma anche con marmellata filadelfia burro d'araco e di tostava con semi di papavero e sesamo ci piace una cosa che ho visto i bauli pan cioccolato fonte di proteine proteico 12 per cento di proteine non c'era ancora da noi perché noi non l'abbiamo visto no ma dove c'è male bergamotto verum che bella ma questa è una bibita ma poi io non mi devo farvi vedere la particolarità c'è proprio bella stiamo andando alla grande andiamo un'altra vai oh oh we wingman 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 se leggiamo la situazione dal fogliettino vabbè momento è bella molto particolare come se fosse una collezione carina molte bevande lattia e allora potere al pomodoro pomodoro pelati garofano invece l'altra volta uscirò nella moesser che era sempre la confezione era e infatti ci hanno dato la pasta venere io volevo prendere il riso venere perché proprio voglia mi devo fare qualcosa con il tonno mi piace un sacco a me il riso venere e quindi ci hanno dato le penne rigorosamente rigate se a me la pasta liscia non ci piace e dentro ci sono pure dei vari ingredienti che si possono utilizzare si pomodoro e basilico gambe le zucchine ricette regionali un filo d'olio un po' così però un po' non mi sapessi è piena di bevande comunque questo è della scottina ti ricordi che erano buonissime di essere barbecue snack venere gusto barbecue sono un po' sfracellati però arrivarono a paprika ti ricordi? si delle gomme smalto bianco smaltato bianco ho preso quelle enormi succo a mela tipo quelle confezioni vecchie non so è un po' 100% mela un litro da un litro in frigo e l'ultimo è questa bevanda da nonne high pro che è 25 grammi di proteine di questo qui fece riuscire anche i dessert da mangiare si fa qui da provare questo pure è da provare in un video adoro dai come c'è andata male? ah stavo dicendo i foglietti che stava novitato allora dai alla fine novità cose più sfiziose ci stai è andata bene ovviamente vi ricordo che se volete soffrire della vostra prima box con lo sconto quindi pagare la 9,99 euro vi lascio un codice nel momento in cui voi lo acquisterete a me rilasceranno i 50 punti nel momento in cui voi effettuate loro dovete dare il vostro link ad amici e parenti e così via allora il prodotto del mese è proprio la pasta venere di su scotti insieme allo snack venere gusto barbecue allora la pasta costa 2,49 euro lo snack al barbecue 1,69 euro poi bagel della Morato 2,49 euro le daygum e le gomme 2 euro questa è una birra quindi l'aquila che abbiamo fatto vedere prima qua dice infatti vogliamo pensarci che fosse una birra visto che delicato mix di frutti tropicali note di pino piacevole aroma di agrumi che la rendono altamente rinfrescante e infinitamente benibile una birra straordinaria con una gradazione alcolica di 4,3 ok quindi fa 4 gradi poi maionese 1,99 bergamotto di calabria 1,29 la comodori garofalo 3,39 succo a mela 1,99 il drink proteico della danone i pro 2,89 e il pan cioccolato proteico della bauli 3,19 wow ci sta alla fine è stata una bella box poi i pesci della bauli in maronna me li volevo troppo provare e quindi nulla aspettatevi dei video assaggi per quanto riguarda i nostri tali gelati pure che qualcosina volevo fare insieme ma vediamo un po' e quindi nulla noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao